Scusi, senta, senta signor Wolff, ha qualche dichiarazione da fare? Sono il nipote del cane di Hitler, anche mio nonno odiava il dittatore, che lo costringeva a eseguire ordini senza senso. Gettava lontano un bastoncino e mio nonno doveva correre a riprenderlo. Finché un giorno, egli si rifiutò di obbedire. Povero nonno, finì assai male. Ehi amico, è la prima volta che ti vedo, come mai sei qui? Questione razziale, mi chiamo Samuel David Israel. Condolzze.